Benvenuti ragazzi sul canale PG Passone Clips in questa domenica, in questa domenica consueta appuntamento, mi sposto un attimino, intanto ringrazio tutti i ragazzi che la settimana scorsa si sono divertiti vedendo il video, sapete ormai diciamo io in questo periodo mi sono invitato a pubblicare un solo video parlando appunto di eFootball quindi fino a che non cambieranno alcune cose però insomma oggi è una puntata abbastanza ricca perché oltre a vedere che cosa è successo lunedì e che cosa è successo giovedì c'è stato appunto il pass alla stagione successiva e quindi ci sono tutta una serie di ahimè rinvii rispetto a quello che erano le previsioni, ne parleremo nel dettaglio, credo già anche nel gioco perché io lo accendo, lo apro e entro solamente una volta a settimana quindi non so, so che cosa mi aspetto però non so se appunto è riportato nel gioco la cosa, magari ci metteremo anche ci faremo un po' un collegamento anche con il sito ufficiale di eFootball però intanto entriamo dentro andiamoci a prendere i premi che ci sono appunto tutte le volte che uno entra ci sarà il premio della stagione, io questa stagione ahimè non ho mai giocato nel senso ho fatto solo qualche evento e ve l'ho pubblicato la domenica ma non ho toccato le divisioni quindi comunque l'aggiornamento avete visto il giovedì c'è stato l'aggiornamento molto corposo a seconda di quelle che erano le piattaforme si parlava anche di 50 60 giga di aggiornamento quindi tutti pensavano porca miseria 50 60 giga di aggiornamento grandi cose allora intanto vediamoci subito vediamoci subito la cosa riproduci il video allora player stranger in v2 quindi versione 2.4.0 vediamo di che cosa si tratta anzi vediamoci i dettagli la stagione iniziata il tema di questa stagione è back to the club con la fine delle contese all'insegna di orgoglio nazionale quindi mondiale i giocatori sono tornati ai loro rispettivi club una volta ancora una volta il campo di battaglia si sposta dal panorama internazionale a quelli dei campionati nazionali e questo uno può dire ma ci sarà la master non è nella prima metà della stagione hai dimostrato a tutti che sa giocare a alto livello oppure la tua performance si è rivelata sotto tono in cerchi di riscatto in zona cesarini o ancora sei in cerca di nuovi change in pascoli più verdi e mamma mia poco importa tutti i giocatori avranno modo di rialzarsi e ripartire da zero a reti mentali inviolate quindi sarà un reset di tutti i giocatori ora a parte il fatto che io su alcuni giocatori tenevo il conto tanto sentite il mio canino vi saluta ormai presenza quasi fissa nei miei video dicevo io tenevo quasi con taccuino perché non sapevo dove andare a vedere le reti le presenze e le reti ma soprattutto le reti portano anche gli assist di alcuni giocatori e appunto nella mia nel mio conteggio tra i giocatori che io ho utilizzato il buon messi era il bomber seguito poi da vari mappe e compagnia danzante qui dicono se in cerca di nuove scienze in poche importa tutti i giocatori avranno modo di rialzarsi e ripartire da zero ma vabbè vediamo questo segna anche inizio in una finestra importante per i club che sentono il bisogno di rinforzare le proprie rose per i prossimi incontri anche qui se uno puntualmente apre il gioco tra premi e gp e tutto sì qualche diciamo sculata con qualche acquisto di monetine ma veramente poche bastano la squadra è già forte comunque dagli avvincenti scontri per titolo di campione presi d'erbi e alle accese battaglie che vanno al di là dei confini dei campionati nazionali e football world è un concentrato di azione calcistica adatta ad ogni palato sti kiwi goditi la febbre del manto oboso con la squadra dei sogni vai con il video vediamocelo è un video senza audio però insomma credo che l'avete un po' visto tutti qui si vede un po' il buyer le squadre diciamo partner ce ne sono anche alcune nuove play valutazione ecco qui il napoli con carascaglia il giocatore del momento ai ragazzi questo è veramente stato un acquisto a parte del napoli chi è che gli era suggerito no ma so chi è che ha suggerito mi sembra che sia l'ex giocatore palermo e della nazione italiana un terzino ora mi viene il nome che ha suggerito play valut cresce allora qui ci sono alcuni giocatori che hanno una come dire un loro è fatti vedete un over aumentato girù dembélé a chi mi faccio lo vedete l'omade ce l'ho proprio solo togli proprio tutto ok perfetto quindi abbiamo visto che alcuni giocatori hanno avuto un upgrade 50 monetine poi bonus speciale poi buono successo a carnevale poi oggetto in apposta marcelli regalo dell'amministratore quindi un giocatore ma poi brasil si queste ragazze era delle cose che poi vi dirò e poi e poi ci abbiamo gli dico dai cd regalo all'amministratore era vediamo che cos'è poi nuovi oggetti della posa scuso l'amministratore 10.000 gp basta allora ok andiamoci a vedere i regali vediamo innanzitutto accordo al buio cd guarda da gli alava sembra essere così deluxe febbraio primo febbraio 2023 poi regalo all'amministratore accordo al buio del brasile poi lo andremo a vedere quindi un giocatore del brasile che possiamo prendere tra i vari che poi vedremo quali sono un accordo al buio per il manchester e poi ci sono bonus accesso allenamenti e scuse eccetera eccetera insomma comunque meno ma è 50 monetine perché ero arrivato in quel punto quindi già capite è stata una settimana parecchio corroposa per quanto riguarda la parte relativa ai premi quindi giocatori che possono potenzialmente far parte della ma andiamoci subito a vedere cosa appunto è stato portato dal gioco sia il lunedì che il giovedì allora e cominciamo con questo allora noi abbiamo un giocatore gratis del brasile ora vediamo quali sono un giocatore gratis del manchester poi vediamo quali sono poi diciamo questo giocatori epici del giappone epici del giappone veramente comunque giocatori da camura me lo ricordo gianamoto un po meno ito non me lo ricordo comunque ci sono un giocatore 100 minuti e dieci giocatori 900 minuti quindi fanno anche un pochino di sconto se le vuoi prendere tutti però pesca limitata 150 su 150 su 150 pescate appunto abbiamo la possibilità di prendere appunto quei giocatori che vedremo e questo scade io lo registro il sabato mi si vede lo registro il giorno prima scade giovedì prossimo tanto la luce si è uscita ma forse anche meglio poi abbiamo world wide del 16 febbraio anche questo qui ci abbiamo giocatori che andremo a vedere poi un giocatore gratis del club guadalajara anche questo è termina fra 53 giorni e poi un giocatore del celsi tra appunto quelli del celsi poi eccolo qui player player del trasferito giovan felix e giorginio ecco che sono i giocatori che nella sessione invernale si hanno cambiato casacca e quindi noi possiamo pescarli magari che ne so avevamo giorginio nel celsi ora è nell'arsela e anche questo lo possiamo prendere e poi anche qui contratto mirato ci abbiamo le cons del club icons e vedremo quali sono i giocatori ora detto così magari cominciamo dal brazilo allora qui pescaggio accordo al buio dato tutti da giovedì è stato dato a tutti allora ovviamente tutti sperano di prendere ronardigno di fatto poi tutti hanno avuto preso questo io ci scommetto una pizza capricciosa che nel mio pescaggio forse forse prenderei cioè mi arriverà o elder oppure il buon bebeto quindi anche anche denzo diciamo che ovviamente se io fossi colui che dovesse scegliere andrei su il buon gaucho ronaldigno anche romario non sarebbe male anche roberto carlos oppure due terzini non sarebbero male il resto è forse anche zico anche se zico io l'ho utilizzato andiamoci a vedere come sempre facciamo le caratteristiche dei giocatori tra virgolette più ambiti poi se no ci si sta la vita un uomo ronaldigno il gaucho regista creativo può giocare dappertutto dalla difesa in su vedete non può fare il mediano non può fare terzino non può fare il portiere normale ma lui insomma pur di giocare farebbe anche il portiere secondo me allora le stas ovviamente d'attacco sono tutte a parte il colpo di testa ma non è ovviamente il suo diciamo il suo credo del calcio tutto il resto è se non sufficiente discreto ottimo dribbling ovviamente controllo corpo 84 e mi torna l'accelerazione mi torna il salto ovviamente non colpita il contatto fisico ecco aumenterei in forse un bochino c'è 11 livelli di miglioramento quindi ronaldigno secondo me può arrivare tranquillamente a 97 98 e fossi io a parte il contropiede veloce che è il gioco con cui io di solito mi avventuro in football aumenterei il contatto fisico fumambolo stile di gioco abilità finta doppio passo elastico sombrero taglio dalle spalle e a giro controllo di solo a giro da distanza colpo di tacco passaggio di prima esterno a giro new look poi frequenza di piede debole raramente precisione per le altre il suo piede debole sarebbe sinistro lui a un destro e poi resistenza di fortuna di bassa forma è normale quindi è un leggendario cinque stelle l'altro giocatore che mi potrebbe interessare e questo è un giocatore che dall'inizio del gioco poteva essere pescato vi guardate in con l'inizio avventura di football c'era in base ai veterani non mi ricordo mi si chiamava potevi pescare una serie di di leggende ecco lui poteva essere uno di questi ovviamente io no lui può fare la punta pura fino al trequartista e hai la seconda punta 18 livelli di miglioramento è una carta diciamo molto come posso dire congelata brasil 1984 vittoria del mondiale sono il bagno del 94 il brasil o no sì sembra di sì non mi ricordo sono vinto il mondiale 94 comunque magari alcuni commenti sicuramente lo sa se lo sa lo dite anche qui diciamo le stats d'attacco a parte il passaggio alto i colpi di testa i calci da fermo tutto il resto sono più che sufficienti e tendenti all'ottimo il valore più alto è il comportamento offensivo insieme al possesso stretto della finalizzazione per quanto riguarda le stats della forza anche qui controlle corpo ottimo 84 potenza accelerazione velocità sono discrete più che discrete il contatto fisico 69 la resistenza 79 forse qui diciamo questi due elementi sarebbero da completare serpentina elastico sombrero proprio come quell'altro vediamo un po il piede debole raro il suo piede debole è il sinistro precisione alta forma normale esigenza di fortuna in alto questo ragazzi è una bestia ma andiamoci a vedere anche il zikus trequartista puro classico 1 10 poi regista anche questo è brasil 82 la famosa partita meglio il famoso mondiale dove rossi diventò il re del mondo con le sue triplette varie alto un metro e 72 pesa 69 chili quindi può fare solo quel ruolo la punta la dina ragazzi non ce lo mettete di punta c'è a sette livelli di miglioramento può arrivare un 96 97 contro il piede veloce non è il suo forte anche se ovviamente la velocità 77 insomma è più che sufficiente tutte le stats dell'attacco sono dal discreto da più sufficiente al discreto tendente anche all'ottimo tipo appunto il controllo palla il dribbling e il possesso stretto le punizioni sono un suo forte così come il tiro a giro controllo corpo 76 resistenza 72 è un signor giocatore anche qui vediamo un po il suo piede debole sempre sinistro precisore pedero molto alto di luci due calci a destra e sinistra resistenza a fortuna di basso quindi potrebbe anche essere poi resistenza 72 attenzione bene andiamoci subito a vedere chi si potrebbe prendere prendilo vai tanto ve l'ho già detto chi è che mi viene fuori ormai è un classico ragazzi non ne riesco sarebbe solo un colpo di più cosa che difficilmente mi viene prendendo appunto liga spagnola ve l'ho già detto chi era visto zitto zitto che è rivaldo appunto niente di che niente di che rivaldo giocatore quasi poco poco pochissimo che non era tra quelli che ho fatto vedere vabbè forse no no ragazzi è un giocatore un trequartista ma niente a che vedere col gauscio ronaldigno giocatore vediamoci sono momenti in cui veramente lupo a differenza di ronaldigno può fare o meglio sì di zico più che ronaldigno può fare tutti i ruoli dalla difesa insomma avete visto mentre zico può fare solo il trequartista lupo giocare anche esterno ma insomma lo farei mai giocare esterno con quelle velocità con quelle stati 13 livelli di miglioramento una carta diciamo congelata alla stagione del barcelone 97 98 45 contro pede veloce giocatore inutilizzabile per il mio modo di giocare però va bene benvenuto ragazzo poi vediamoci qua siamo nel dettaglio vedi tutti i giocatori anche qui con con la possibilità l'accordo al buio ci sono i tre giocatori del manchester diego forlan che noi abbiamo già però è una carta non del manchester poi love una punta sì che fu è un trequartista kagayaga insomma anche qui ragazzi è forse la prima volta che sinceramente sarei più contento che venisse qualche altro giocatore che non so non è questi tre dei tre se devo proprio scegliere forse furlan anche se furlan la carta furlan ce l'abbiamo diciamo ma non è ripeto quella del del manchester unite quindi andiamo a dire questo poi me lo farò magari va facciamolo dai vediamolo tutti quindi tanto si deve prendere vai giocatore gratis vediamo chi viene fuori ripeto dei tre tanto le leggende non me ne viene mezza non ho mai pescato una leggenda da queste pescate quindi sarà certamente adesso infatti in tre stelle così giocatore inutile ma non è che sia molto poi ramsey no ramsey ex juventus il giocatore non è lui ma non è lui ovviamente il giocatore della che squadra è questa 1 49 43 vabbè diciamo continua e via poi andiamoci a vedere i giocatori del giappone ovviamente ci sono oltre giocatori del giappone che sono ito nakamura e inanamoto poi c'è tutta una serie di giocatori come sempre come questi prima 150 giocatori andiamo a vedere questo ito che è un esterno può giocare praticamente esterno a destra sinistra può fare trequartista può fare il centro rampisa può fare la punta a troppo e poi non fa nulla carta 1 e 76 peso 67 kg un po leggerino per far la punta non lo farei mai giocare 29 e 29 appunto livelli di miglioramento carta congelata alla stagione 2018 orkashiva rei sol contro per veloce 90 quindi è un giocatore che comunque non sbloccherei mai poi nakamura vediamolo anche lui nakamura se non sbaglio in italia ha giocato se non sbaglio questa è una carta del congelata all'anno 2000 la stagione 2013 39 livelli di miglioramento età 35 anni alleva quindi praticamente scena quasi una cinquantina al bimbo anzi no 45 quest'anno valutazione b anche qui contro per veloce 90 è chiaro una stazia ovviamente a parte potenza il tiro e passaggio poi il resto può giocare trequartista può fare centro rampista può fare mediano può fare anche l'esterno basso di destra non può fare nient'altro io non lo prenderei mai e già che ci siamo in anamoto anche questo è carta congelata congelata a 23 anni fa quindi stagione 2000 2000 con il gamba usaka tra 21 anni altezza 181 pesa 77 kg giocatore un mediano un medianaccio un collante che però appunto le stazie difensive non è che siano poi tantissime l'unica cosa importante di questo è carta è la resistenza con 88 siamo un po il cinesino un giapponesino anche lui non ci butterei una lira ma credo che non ce le butterà nessuno worldwide febbraio 2016 vedi tutti i giocatori ecco forse questo qualcosa ci sono giocatori dal pedri a timber a show difensore centrale ecco su show ragazzi c'è da dire un po di cose show nel diciamo è nato come esterno sinistro come terzino sinistro ma ultimamente nel manchester lo fanno giocare come centrale di difesa ovviamente centrale di sinistra e non si comporta molto male anche sulla concorrente fifa troviamo una carta di show difensore centrale e qui appunto tra i giocatori disponibili c'è proprio c'è proprio lui dovrebbe essere vediamo un po che caratteristiche ha è uno sviluppo vedete può giocare a sinistra come al mezzo può fare addirittura anche l'ala questo è un bel pezzettino perché c'è il passaggio alto 90 poi c'ha le stazze d'attacco e di difesa molto molto importante più di difesa ovviamente insomma se uno dovesse prenderlo migliorerebbe migliorerebbe decisamente il comportamento offensivo e diventerebbe veramente un bel terzino ovviamente offensivo però questa è una carta un pochino più difensiva rispetto allo show terzino poi abbiamo portiere italiano vabbè niente di che andiamo a vedere poi ci sono ecco qui abbiamo un altro giocatore gratis il cd guadalajara deluxe febbraio 2023 che si cede non so cosa sono sono giocatori del guadalajara squadra delle nuove partner vediamo un attimino si guadalajara del febbraio selection qui ci abbiamo alvarado io questi non le conosco ragazzi andiamole subito a pescare tanto non si può fare altrimenti bisogna per forza pescarlo per forza nel senso sono peschi polo peldi entriamo a vedere un po se giocatore analizziamo quello che ci viene fuori ma poi niente di più liga bb vva che a queste portiere no non è un portiere grafica ragazzi sempre super su questo gioco qui veramente veramente sempre super per quanto riguarda questa questa cosa qui perché è veramente questo abbiamo preso il terzino calderon calderon abbiamo preso tanto cambiamo poi filtri ok va bene abbiamo preso i filtri allora vediamo un pochino lui è un terzino offensivo tesino sinistro 75 di ovri iniziali 31 livelli pesa 68 kg leggerissimo quindi la resistenza o meglio il contatto fisico è 60 carta inutilizzabile perché bisognerebbe maxarlo soprattutto essendo appunto un terzino offensivo o gli si dà più un discorso un comportamento d'attacco ma insomma qui ci sono tante stats parte la velocità che è più che sufficiente l'accelerazione i passaggi ma poi il resto va veramente schifo comunque è un giocatore che non utilizzerei sinceramente ok poi ci sono i soliti giocatori del celsi andiamoci a vedere vedi tutti abbiamo evers zagaria ottimo tiago silva queste sono colibali sterling poi abbiamo young e che pa tutti i giocatori del celsi giocatori del celsi non so se colibali ce l'abbiamo noi sinceramente non lo so un 100 100 monetine poi contratto mirato quello che vi dicevo prima giocatori 5 stelle e 4 stelle anche un tre stelle tutti i giocatori che sono stati e protagonisti del passaggio da una squadra all'altra gioao felix forse più insieme a giorginio sono i più noti ma insomma poi c'è anche malinoski che è passato all'olimp lyon anzi in marsiglia poi chi c'è un altro giocatore sommer che è andato al bar di monaco sempre in germania era poi ci abbiamo montes che è andato a questa squadra che non conosco e poi c'è sabi sabi tedzer centrompista che dal credo dal baio di monaco andato al manchester unite e sono tutti i giocatori ovviamente forse di questi giusto perché è un giocatore a che mi piace prenderei forse giorginio anche se è un centrocampista lui fa mediano ma non lo farei mai giocare mediano perché leggerino 67 chili poi non ha grandi stats difensive dovrebbe essere un po aumentato 24 livelli di miglioramento ma insomma io lo farei giocare più che altro come centrocampista forse affiancato a uno più potente perché insomma i mediani devono anche essere forti fisicamente altrimenti ci abbiamo come seconda punta il buon gioao il gioao felix che di fatto questa produzione ha 23 anni ragazzi stai giovani è un portugausse anche lui c'ha le stazie d'attacco che sono più che sufficienti tendente a discrete anche non c'è al colpo di testa ma lui insomma non è certo il suo può giocare può fare tutte le fasi d'attacco tranne il mediano poi può giocare a tutte le parti mediano difesa niente può giocare a tutte le parti ecco forse il gioao felix carta speciale del trasferimento che è andato appunto anche lui al celsi se non sbaglio era l'atletico madrid e quindi però non facciamo niente abbiamo un contratto ce lo asserviamo e poi ci siamo questo i club icons anche questo news news di questa settimana ci sono contratto che va dal 5 stelle al 3 stelle non so cosa vuol dire ecco verati ce l'abbiamo di già questa è un'ottima carta ragazzi veramente prendetela perché da tutte le parti e poi ci abbiamo o ipsa da o o yazar ball james un altro giocatore tezzino destro molto forte toloi un difensore centrale molto forte cioè poi il quagliarellone nazionale un 77 3 stelle giusto per la curiosità di di metterlo in campo io lo prenderei anche ma vedere le stats 82 comportamento offensivo chiaramente un giocatore di 39 anni votazione di sarà sempre con le sting e short mi dio io però insomma lui magari lo maxi un pochino a 82 83 io ragazzi questo meno ingaggio con contatto a tre stelle meno ingaggio perché io sono un po un boy fans fans di il buon quagliarellone c'ho avuto anche su fifa so che questo è un video di football quindi fifa meglio di no ma insomma ce l'ho avuto un po su tutti i titoli calcistici in questi ultimi periodi mi ha sempre dato soddisfazione danno occhio ad un giocatore ok buono ovviamente voglio vedere il suo precisione lui è un adesso ma anche di sisogigla senza infortuni media incontrollabile contro la resistenza 63 e potrebbe fare un sub entro magari un sub l'ultimo 10 15 minuti potrebbe anche giocare ce lo portiamo magari in qualche partita allora per giusto concludere perché siamo già 25 minuti di video andiamoci a vedere gli eventi e poi a rivederci alla prossima settimana vediamo un po gli eventi lascio perdere quel national team partita contro il computer vediamo cosa ci sono i dettagli evento speciali in corso accumula 6.000 punti ottiene fino a 80.000 gp e 60.000 punti esperienza includi giocatori che presentano un bonus giocatore e anche qui le squadre sono quelle nazionali c'è anche l'italia quindi non è quelle mondiali punti eventi mille punti dopo a mille punti 20.000 2000 punti 20.000 sempre e poi insomma si segue fino ad arrivare quello che diceva prima la nota è un evento contro il computer quindi magari uno con tranquillità si può fare un po di gp entra anche questo la championship africana no a fc non so se è asiatica comunque non è ovviamente la accorda al buio evento speciale in corso tieni accordi al buio che ti permettono di ingaggiare i giocatori degli da 1 8 club che hanno raggiunto la fase di mezzo diretta della fg champion league quindi credo sia la la champion del africana o asiatica sinceramente non lo so quindi anche qui le squadre sono queste si e quelle dubai quindi è quella araba quella araba quindi le squadre sono ci sarà anche la squadra del buon che sarà noraddo ora qui non la vedo perché poi i nomi ovviamente sono un pochino non sono stragiati è comunque anche qui accorda al buio 250 punti un altro accordo al buio cinque centri tre quattro cinque tutti accordi al buio quindi anche se magari qualche accordo al buio ma insomma non concesso che mi interessa qualche giocatore di quella lega e poi anche questo contro il antificenza artificiale contro il computer mentre per divertirsi con gli amici c'è solo la language league anche questa accorda al buio e qui abbiamo dicevi un accordo un premio accordi al buio accumulando i punti evento quando giochi contro anche questo vino ragazzi c'è tutto con il contro il computer quindi magari mettete un livello che vi più vi aggrava per poter fare un po di gp e un po di accordi al buio anche qui le squadre su quelli inglesi se non sbaglio c'è il bonus mettendo questi giocatori qui insomma e poi quest'altra invece la liga bbva che appunto la lega con l'america accorda al buio e ancora di vestire che questo penso non ci c'errà nessuno perché finisce ecco qui ci sono tutte le squadre del cosa sono squadre del guadalajara sono sgualle messicane quindi la liga messicana anche qui dopo 100 punti c'è un altro accordo al buio e poi 10.000 punti insomma anche queste poi dopo 3.000 un altro accordo al buio credo che questo evento lo faranno veramente pochi è un muro magari qualcuno che poi vuoi fare una squadra esotica succede quelli più bravi magari fanno si annoiano perché poi di fatto sono sempre le solite cose si annoiano su le solite modalità ragazzi io direi di chiudere qui questa nostra questa nostra appunto avventura di oggi di questa nostra avventura di oggi e io direi appunto di di salutarci come sempre ragazzi sottotrovate intanto aumentiamo un po' più di luce si vede una mazza come sempre ragazzi sottotrovate tutti i collegamenti al canale quindi gruppi facebook gruppo discord il gruppo telecam telegram per quanto riguarda foot fifa italia il collegamento appunto a instagram andatela a trovare e poi soprattutto su discord il la community games di cui io e corvo bianco diciamo siamo tra virgolette gli editori ma insomma vi aspettiamo perché stiamo organizzando dei tornei sia sui football che su fifa quindi magari se qualcuno appunto che ne so è interessato magari nei commenti mi chiede di che cosa si tratta io ovviamente vi dirò tutto io vi saluto e per quanto riguarda il futuro vi do appuntamento a domenica prossima domani ci sarà la programmazione ora oggi che sto registrando non so bene che cosa manderò in onda lunedì e se riuscirò a mandare qualcosa in onda lunedì ma sicuramente sì però insomma diciamo le serie quelle diciamo tra virgolette classiche ci saranno martedì e mercoledì mentre ripeto l'episodio di e futuro ci sarà domenica prossima ciao